Siero dato Gesù Cristo e avanti con Maria. Bentrovate tutti voi, miei cari figlioli. Riprendiamo questa sera, 6 novembre, il ciclo di Catechesi su questo splendido, straordinario testo della Bibbia, l'ultimo libro della Sacra Scrittura, l'Apocalisse, che prende il nome dal termine greco Apocalipsis, che vuol dire appunto rivelazione, e che riguarda un po' potremmo dire il sigillo, che è uno tra l'altro dei termini più significativi, di tutta la storia della salvezza. Il libro, vorrei fare una breve sintesi, breve però necessaria, perché abbiamo interrotto le Catechesi più o meno sull'Apocalisse, più o meno verso metà quaresima, e eravamo arrivati al capitolo 11, quello che riguarda i due testimoni. Se vi ricordate, lo staff di Radiodomina ha già provveduto a inserire un box con tutte le Catechesi finora fatte, e quindi sarà più facile per chi non le avesse seguite provare a seguirle e a fare una sintesi. Una sintesi che adesso provo a realizzare io. Anzitutto il libro è organizzato in 22 capitoli, è l'ultimo libro della Bibbia, rivelato secondo la tradizione all'Apostolo Giovanni, il discepolo prediletto di Gesù, quegli che nell'ultima cena non a caso è l'epistetosse, dice Origene, cioè colui che sta sul petto, epistetosse, colui che sta sul petto nell'ultima cena, cui Gesù rivela l'identità del traditore, e che poi sarà anche ai piedi della croce insieme con la Madonna che viene affidata a Giovanni, ecco tua madre. Quindi l'Apostolo Giovanni è autore del quarto Vangelo e secondo la tradizione proprio lui Giovanni è quegli che scrive poi anche nell'anzianità ormai esule e forse anche prigioniero agli arresti domiciliari o comunque ai lavori forzati nell'isola di Patmos con queste rivelazioni che la Chiesa ha ritenuto appunto canonicamente rilevanti. I libri organizzati in 22 capitoli ha un registro simbolico, è molto difficile appunto darsi da fare per interpretare il testo sacro di Apocalisse. E forse proprio questo, diciamo, involucro simbolico che l'Apocalisse possiede è quello che più di tutti affascina, è quello che lo rende un evergreen, come si dice, no? Sempre verde. E l'errore pastorale, teologico, spirituale che la Chiesa Cattolica della postconcilia compiuta è quello di avere accantonato questo testo lasciandolo purtroppo in balia dei circoli milenaristi e pentecostali e così via dicendo. Ci siamo privati di un patrimonio vero e proprio, l'Apocalisse è veramente un patrimonio, per quanto, ripeto, il testo sia sviluppato attraverso una serie di visioni assolutamente mozzafiato, incredibili, soprattutto la prima, se vi ricorderete, ne abbiamo parlato, la Cristofania, la manifestazione del Chirios, del Cristo risorto, però il testo appunto in quanto tale è veramente un capolavoro letterario. Potremmo quasi dire che l'Apocalisse è una sorta di spartito musicale dove le note sono sostituite piuttosto da, diciamo, le note sostituite dal registro simbolico. Ecco, questo è quello che, diciamo, secondo me merita di essere particolarmente considerato. Ecco, allora, noi abbiamo sviluppato un ciclo di catechesi dal primo capitolo all'undicesimo capitolo. Ci siamo fermati all'undicesimo capitolo, che è quello che parla dei due testimoni. Abbiamo riflettuto su quello. Adesso vorrei farvi proprio un'estrema sintesi di come si è sviluppato finora il testo di Apocalisse e questa sera, e addirittura, ci ritroviamo a dover riflettere questa sera, come anche un altro paio di serate, evidentemente sul secondo me, ma non secondo me, evidentemente secondo diversi esegeti, tra cui Ugo Vanni, ci ritroveremo a riflettere sul capitolo dodici di Apocalisse. I capitoli sono ventidue, ma non c'è dubbio che il capitolo dodicesimo è un capitolo assolutamente centrale, decisivo e nevralgico, dove c'è la donna vestita di sole. Allora finora abbiamo visto la cristofania, cioè la manifestazione di Gesù Cristo. Vi invito a rileggere oppure a riascoltare soprattutto le prime catechesi su Apocalisse, quando il Kyrios, il Kyrios è un termine greco che vuol dire il Signore risorto, si manifesta a Giovanni nell'isola di Patmos e con tutte le considerazioni, le caratteristiche, le riflessioni che abbiamo fatto di tipo letterario, teologico, storico, circa il libro di Apocalisse. Poi è seguito il settenario alle sette chiese d'Asia. Abbiamo riflettuto sulle parole che l'imperatore, vi ricordate, con decreto imperiale, il Kyrios, Gesù Cristo è l'imperatore, è lui che governa la chiesa, invia alle sette chiese d'Asia. Abbiamo visto quali sono queste sette chiese, che cosa il Kyrios, il Cristo risorto, dice a queste chiese, come le rimprovera, come le mette in guardia, qual è il registro anche di tipo escatologico che il Kyrios rivolge a queste sette chiese. Poi dopo Giovanni ci ha trasportati dentro il mistero di Dio e qui dopo esserci concentrati grazie allo straordinario prestigio letterario di Apocalisse, che sembra quasi un set cinematografico su Gesù Cristo, ecco che improvvisamente interviene un nuovo protagonista. Un nuovo protagonista nelle prime pagine di Apocalisse, se vi ricordate, dicevamo che il Kyrios, cioè il Cristo risorto, è colui che abbaglia, cioè l'inizio di Apocalisse, che è un libro che tante volte viene considerato come quello che parla dello scontro di Satana, dell'anticristo, delle cose brutte che devono accadere. In realtà i primi capitoli, se vi ricordate, l'abbiamo detto tante volte, sono pieni di questo abbaio, non so, ecco, proprio tante volte qui da noi, non so se anche al nord succede, la gente scorda di togliere gli abbaglianti. Una volta c'era scritto in autostrada, ancora oggi è così, non accendere gli abbaglianti, ecco, non accendere gli abbaglianti in presenza di altre vetture opposte. Ecco, gli abbaglianti, i primi capitoli di Apocalisse sono gli abbaglianti, ti abbagliano. Kafka, che è un autore ateo, molti lo conoscono, della Repubblica Ceca, quando fu interrogato su che cosa pensasse di Gesù Cristo, fece così chiuse gli occhi e disse non voglio aprire gli occhi di fronte a lui. Ecco, Gesù Cristo abbaglia, è lui l'imperatore che invia le pergamene alle sette chiese d'Asia. E dunque, anche, dunque anche, fioli cari, interviene a un certo punto Ocathemenos en trono, cioè colui che sta seduto sul trono. Chi è che sta seduto sul trono? Dio Padre. Improvvisamente compare questa visione assolutamente straordinaria. Era importante che questa sera, visto che riprendiamo, facessimo una sintesi per quanto sta prendendo un po' di tempo. Eccolo qui, subito fui preso dallo Spirito, capitolo 4, ed ecco c'era un trono nel cielo e sul trono uno stava seduto. Colui che stava seduto era simile nell'aspetto a diaspro e cornalina. E la caratteristica fondamentale di Dio Padre è colui che sta Ocathemenos en trono, colui che sta seduto. Ecco, perché governa, governa le vicende della storia umana. Dentro alle trame apocalittiche dello scontro finale tra il bene e il male, sovrasta, potremmo dire, Ocathemenos en trono, colui che sta seduto sul trono. E qui c'è la descrizione simbolica che noi abbiamo fatta. Vi rinvio al box che è stato preparato per tutti voi, dove io approfondisco questo capitolo 4. Colui che stava seduto era simile nell'aspetto a diaspro e cornalina. Un arco baleno simile nell'aspetto a smeraldo avvolgeva il trono. E così poi c'è questa visione straordinaria per cui attorno al trono ci sono i 24 veiardi. E a un certo punto il registro letterario, teologico, si amplifica perché inizia il tema del settenario dei sigilli, i sette sigilli. Ecco, vi ricordate, abbiamo dedicato ampio spazio ai sette sigilli. Soprattutto ricordo molto bene quando abbiamo approfondito il tema, se vi ricordate, dei quattro cavalieri. Ecco, rileggiamo questo brano che è uno dei più belli. Allora eccolo qui. E vidi un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava aveva un arco, gli fu data una corona ed egli uscì vittorioso per vincere ancora. Quando l'agnello aprì il secondo sigillo, udì il secondo essere vivente che diceva vieni. Allora uscì un altro cavallo rosso fuoco. Poi c'è il terzo cavallo nero. Colui che lo cavalcava aveva una bilancia in mano. E udì come una voce in mezzo ai quattro esseri viventi che diceva una misura di grano eccetera. Infine il quarto sigillo, il quarto essere vivente, un cavallo verde. Colui che lo cavalcava si chiamava morte. E gli inferi lo seguivano. Ecco, quindi vi ricorderete questi sette sigilli. Si è poi arrivato al settimo sigillo e col settimo sigillo ha avuto avvio poi anche il nuovo capitolo delle sette trombe. Voi, tutti voi sapete, quelli che avete seguito finora questo ciclo di catechesi tenute fino in quaresima, che l'apocalisse si snoda attraverso quella che von Balthasar chiama aritmetica matematica. Scusate, matematica celeste, anche aritmetica celeste. Cioè, l'apocalisse che ha già di suo un registro simbolico che lo rende un testo assolutamente avvincente come nessun altro in tutti i più di 70 libri della Bibbia. Poi è anche un testo che procede per ritmo, per scadenze matematiche. E quindi c'è il settenario, come stiamo dicendo, dei sigilli cui segue il settenario delle trombe. Se vi ricordate, lì finalmente comincia a scatenarsi il mondo demoniaco. Vi ricordate le cavallette? Vogliamo soltanto ricordare la sesta tromba. Il numero delle truppe di cavalleria era 200 milioni, ne intesi il numero. E così vidi nella visione i cavalli e i loro cavalieri. Questi avevano corazze di fuoco, di giacinto, di zolfo. Sono tutte questioni che noi abbiamo approfondito e vi rinvio, per quanti non avete potuto seguirle, all'approfondimento presente già su Radio Domina. Dopo i sette sigilli e le sette trombe abbiamo visto la missione profetica dell'autore sacro di Apocalisse che deve mangiare il rotolo che si presenta amaro perché la profezia non viene ascoltata. È una cosa che vediamo ancora oggi ai nostri giorni. Io sono uno di quelli che urla da tre anni che Bergoglio non è il Papa. Ci sono tante prove che lo dimostrano. Ma quanto è amaro questo ministero profetico? Voi tutti non potete immaginarlo. Io capisco, se mi posso permettere di dirvelo attualizzando il testo sacro, che cosa sia questa amarezza nelle viscere. Veramente è dolce al palato ma poi è amaro perché te annunci la verità, dici come stanno le cose ma l'umanità va per la sua strada. E qui questo mostra chiaramente, fiolicari, una cosa molto importante, cioè che esiste Ocathemenos en trono, colui che siede sul trono. Esistono gli angeli che, come dice Fonbaltasar, sono coattori della storia finale, dello scontro finale. Esistono però anche coloro che, gli abitanti della terra, ecco il termine greco, gli abitanti della terra. Attenzione a questa categoria decisiva nell'Apocalisse che oggi è molto attuale. Gli abitanti della terra vogliono un regime, come stiamo vedendo in giro per il mondo a partire dagli Stati Uniti d'America, dove non esiste più la democrazia, dove non esiste più la libera scelta del soggetto. I abitanti della terra si oppongono al disegno di Dio, fiolicari. E' quello che l'Apocalisse racconta molto bene. E infine ci eravamo fermati, ho fatto una sintesi come potete immaginare molto rapida, allo squillo della settima tromba preceduto dalla storia dei due testimoni. Abbiamo visto le interpretazioni varie su questi testimoni, evidentemente, e abbiamo anche capito che, come diceva Don Dolindo Ruotolo, che deve trattarsi di due personaggi, uno religioso, dice Don Dolindo Ruotolo, e uno politico. Ecco, io mentre preparavo per voi queste catechesi questa sera mi chiedevo se non potessero, il catecon che poi richiama i due testimoni, se non potessero riferirsi questi due testimoni, secondo appunto questa visione di Don Dolindo Ruotolo, a Benedetto XVI, il catecon della Chiesa e a Donald Trump, il catecon di fronte al Deep State. Non è da escludere, perché essendo un testo simbolico può essere applicato alla situazione attuale che stiamo vivendo. Una cosa posso dirla, vediamo come sono perseguitati. Io questa sera ho visto in tv come è trattato Donald Trump a Rai uno, cioè viene trattato come uno che fa casino perché non vuole arrendersi all'evidenza della sconfitta, sta creando problemi, ma non approfondiscono le cose che lui ha dette circa le truffe, gli imbrogli che ci sono stati. Ecco, e quindi non è da escludere questa cosa qui, cioè che l'uno e l'altro, Benedetto XVI e Donald Trump, possano veramente essere, diciamo così, quelli che fronteggiano. D'altra parte Apocalisse dice che i due testimoni muoiono. Leggiamo il testo e poi finalmente andiamo al nostro brano di questa sera, però questo quarto d'ora, venti minuti circa, era previsto perché si potesse in qualche modo approfondire la questione. Allora, leggiamo. E quando avranno compiuto la loro testimonianza, la bestia che sale dall'abisso farà guerra contro di loro. Stiamo parlando dei due testimoni, al versetto settimo seguente. Li vincerà e li ucciderà. I loro cadaveri rimarranno espossi sulla piazza della grande città che sicolicamente si chiama Sodoma ed Egitto, dove anche il loro signore fu crocifisso. Uomini, eccolo qui, uomini di ogni popolo, tribù, lingua e nazione, vedono i loro cadaveri per tre giorni e mezzo e non permettono che i loro cadaveri vengano depositi in un sepolcro. Gli abitanti della terra, katoikuntes in greco, è come se vi ricordate il termine greco, perché poi se vi ricordate abbiamo proceduto anche con una serie di espressioni apodittiche molto belle. L'Apocalisse è un testo odiato dalla falsa chiesa perché rivela la verità, capite? La falsa chiesa bergogliana, il deep state, i poteri forti mondiali odiano l'Apocalisse perché l'Apocalisse è uno svelamento di ciò che sta accadendo ai nostri giorni. Io non ho dubbi che noi siamo la generazione dell'Apocalisse, fioli cari. Non ho alcun dubbio su quello. Siamo ormai nella stagione dell'anticristo, siamo ormai nella stagione dell'apostasia della fede e della regime del nuovo ordine mondiale. Dobbiamo essere più che mai disposti a esporci, come del resto ormai faccio io. Mentre sto parlando con voi, per esempio, si è attivato sul mio cellulare, per dirvi in una sola, non so come, una sorta di richiamo alle chat, quelle lì, non so come si chiamino, quelle un po' sporche. Io non ho toccato nulla e qui mi dice attenzione, 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 mentre sto parlando con voi, per dirvi, ecco, bisogna stare molto in guardia. Ma la realtà che noi viviamo è proprio questa, fioli cari. noi dobbiamo avere chiaro che stiamo vivendo il tempo della grande apostasia, dello scontro finale contro Satana e del tempo dell'anticristo. Vorrei anche dire un'ultima cosa molto importante e poi finalmente andiamo al nostro testo, cioè questi due testimoni muoiono e il mondo intero esulta per la loro morte, ma dopo tre giorni però risorgono, no? Se leggiamo, ma dopo tre giorni e mezzo un soffio di vita che veniva da Dio entrò in essi e si alzarono in piedi con grande terrore di quelli che stavano a guardarli. A loro udirono un grido possente dal cielo che diceva loro salite, questo, insomma, risorgono. Che cosa significa questo? Che la morte non è necessariamente quella fisica, ce n'è una peggiore in questo sistema mondiale, globale, dove governa la menzogna, dove i figli delle tenebre, i figli del male, gli adepti di Satana e come li chiamava Sor Lucia, i partigiani del diavolo, stanno organizzando una sinagoga mondiale per eliminare tutti quelli che non si omologano? Allora la morte non è prima di tutto o semplicemente quella fisica, ma la morte, lo vediamo con i due testimoni fiolicari, è soprattutto la morte spirituale morale, cioè i media. Ecco, qui vorrei dirvi, i media sono un ottimo mezzo a servizio di Satana, che diffondono la menzogna, che non dicono la verità, che fanno un'operazione per distruggere moralmente, lo dico sulla mia pelle perché io so quello che ho passato, e va bene, per distruggere moralmente coloro che non si omologano al sistema. E quindi l'Apocalisse è un libro assolutamente avvincente proprio perché parla dello scontro, parla della battaglia, di una battaglia senza esclusione di colpi, di una battaglia mortale, potremmo dire, una battaglia finale tra le forze del bene e le forze del male. E però c'è Ocathemenos in trono, cioè colui che sta sul trono seduto, che è Dio padre, il cui arcobaleno sta ai suoi piedi, è colui che governa le sorti del mondo e alla fine c'è l'Amen finale che assicura la vittoria al piccolo resto, che assicura la vittoria agli eletti, a coloro che sono segnati, come leggiamo in Apocalisse, col sigillo della verità. Ma lo scontro è in atto ed è uno scontro tremendo e finalmente adesso possiamo andare al capitolo 12, vi ricordo poi, naturalmente vi dicevo, delle sessioni apodittiche come per esempio Eniches e Noleon, cioè ha vinto il leone, il leone della tribù di Giude, è un termine, un'espressione che viene adoperata per esempio negli esorcismi, ne abbiamo viste altre, ve le ricorderete tutti voi, ecco, ma penso che adesso è venuto il momento finalmente di agganciarci, dopo aver fatto questa estrema sintesi che spero non vi abbia annoiato, al nuovo approccio letterario, teologico, spirituale e attuale di questo straordinario testo di Apocalisse che vi raccomando di avere sempre presente. Allora oggi finalmente andiamo al capitolo 12. Il capitolo 12 costituisce, secondo tutti gli studiosi, gli esegeti di Apocalisse, una sorta di spartiacque, nel senso che il capitolo 12 introduce il rapporto tra la donna, come ora vedremo vestita di sole, vedremo chi è, che cosa significa la simbologia, e il drago infernale, l'enorme drago rosso, cioè compaiono questi due antagonisti, siamo al cuore ecco dello scontro, capitolo 12, del resto siamo a metà, e allora attenzione bene, attenzione bene, ci sono questi due antagonisti inaspettati, almeno uno è inaspettato perché l'altro ce lo si aspetta, uno è appunto l'enorme drago rosso, l'enorme drago rosso è un antagonista che ci si aspetta, non ci si aspetta invece la donna vestita di sole, è una figura che irrompe, come dicono gli studiosi, gli esegeti, penso a Ugo Vanni in particolare, che è quello a cui particolarmente mi riferisco, è una figura inaspettata che, come vedremo, è con ogni evidenza la Vergine Maria, ultimamente, negli ultimi 50 anni si è imposta la tipologia ecclesiologica, cioè la donna vestita di sole sarebbe prodotto la chiesa, e quello che mi colpisce è che Ugo Vanni, che è un gesuita del poste concilio, vicino al cardinal Martini, quindi niente affatto, diciamo, sospettabile di tradizionalismo, dice che no, questa è una interpretazione, io qui con me il libro, non mi invento nulla, gli studiosi possono andare a vedere, eccolo qui il volume di Ugo Vanni, e lui dice no, no, ma questo non va bene, la donna vestita di sole è la Madonna, è la Beata Vergine Maria, è Maria Santissima, lo dice con molto chiarezza richiamando, tra l'altro, un'attenzione di Paolo VI, che ha un simposio mariologico, prese parole e dice, ma dicono adesso che la donna vestita di sole sia la chiesa, e come dice così, non saprei, e poi aggiunge ma, ed è questo Paolo VI, quindi la donna vestita di sole, questa sera non abbiamo dubbi di dire che se anche come ricaduta è, e può essere considerata anche la chiesa, prima di tutto il soggetto personale, a te ti bene, perché l'esegesi contemporanea fa di tutto per creare confusione, il soggetto personale di Apocalisse XII, l'antagonista di Satana, perché l'enorme drago rosso, lo dice lo stesso Giovanni, poi è quello che chiamiamo Satana, è la Vergine Maria, la madre di Gesù, che la falsa chiesa bergoiana fa di tutto per bestemmiare, per renderla una donna qualunque, una donna come noi, e invece non è una donna come tutte le altre, è la donna vestita di sole, in barba, a tutte le mistificazioni progressiste bergoiane. Ma allora a questo punto leggiamo il testo. Questa sera noi, per ragioni di tempo come avevo previsto, ci fermiamo sui primi sei versetti, e poi vedremo, qualcuno scrive già che il drago rosso potrebbe essere la Cina, perché non è un'interpretazione peregrina, non è affatto un'interpretazione peregrina, anzi, può avere un grande, diciamo, può avere un effetto, una forte ricaduta a questa interpretazione, ma lo vediamo. Intanto leggiamo adesso finalmente il testo, capitolo 12, versetti 1-6. Il testo, anche da un punto di vista letterario, è assolutamente straordinario, e credo, presumo, sia uno dei testi più noti, fa parte anche entrato nel Rosario, il quinto mistero glorioso, la donna vestita di sole, appunto, ma leggiamo il testo. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, che meraviglia questa immagine, fioli cari, dobbiamo chiedere allo Spirito Santo di farla filtrare dentro di noi, non so voi, io vivo di questa, perché vedo che sembra che la Chiesa proceda sempre per nuove sconfitte. Non so voi, a me brucia vedere Trump trattato in questo modo, lo stanno sbrandellando, la Chiesa Cattolica, Roma occupata da Bergoglio, Benedetto XVI messo da parte, un governo in Italia non eletto dal popolo, la dittatura sanitaria, sono tutte cose, allora però tu vedi questa donna vestita di sole. Capite che è uno spiraglio che si apre, fioli cari, è una luce ricca di speranza per tutti noi che saremo costretti a soffrire se non vogliamo obologarci alla dittatura unica, che a questo punto non è più quella nazista in Germania di Hitler, o quella sovietica comunista di Stalin in Russia, o quella di non so dove in Africa, questa volta sarà una dittatura perché è quella ultima dell'anticristo mondiale, mondiale figlioli cari, e tutti quelli che non vorranno omologarsi, e io sono tra questi naturalmente, ci mancherebbe altro, possono solo guardare a lei, alla donna vestita di sole. Ma leggiamo il testo. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, e qui c'è tutta una caratterizzazione importante, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di dodici stelle. Questa è un'espressione naturalmente anche entrata, come sapete molto bene, nell'iconografia, nella tradizione cattolica. Ecco, Fonbalta sarà scritto questo libro qui, Apocalisse, e c'è proprio l'immagine molto bella della donna vestita di sole, con la luna appunto, come si dice, sotto i suoi piedi, e sul suo capo una corona di dodici stelle. Sono caratterizzazioni iconografiche che fra un momento spiegheremo. Ecco, era incinta. Ecco, questo è un altro improvviso colpo di scena. Mi ricordo molto bene che nelle prime catechesi andavamo in estasi, perché la cristofania, vi ricordate la concentrazione su Gesù Cristo? Avevo parlato anche della sauna, cioè entri nella sauna e poi esci che sei tutto gocciolante. Ecco, entri in questa sauna dell'Apocalisse e ti riempi di Cristo, la tua pelle trasuda Gesù Cristo, ma certo anche il capitolo dodici è una marianofania assolutamente meravigliosa, ecco, e ricca di colpi di scena. Versetto 2. Era incinta e gridava per le dolie e il travaglio del parto. Allora, e qui questo quindi è Giovanni che ti prende, come sempre succede, fa un primo piano sul primo soggetto e poi ti presenta l'antagonista. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso. Eccoli qui i due antagonisti. Eccolo qui, Apocalisse 12, paradigma del momento che stiamo vivendo. Sopra le nostre treste, tra Trump e Biden, non so io, tra la dittatura sanitaria imposta a tutti i costi e i sospetti che nascono, tra Bergoglio, usurpatore del trono di Pietro e Benedetto Xecissimo che resta il vero Papa, sopra le nostre teste c'è il vero scontro. I due antagonisti sono la donna vestita di sole che ha i travagli del parto e adesso invece il suo grande nemico. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso con sette teste e dieci corna e sulle teste sette diademi. La sua coda, qui adesso c'è un ampliamento, diciamo così scenografico, che gli studiosi non esitano a definire drammatico. La sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Ecco, finora i due antagonisti vengono presentati nelle loro caratteristiche statiche, se non che invece al versetto 5b inizia la dimensione dell'antagonismo dinamico, come si dice, no? Cioè il dragone, questo antagonista di Maria, perché la donna vestita di sole, lo ripeto, nella stragrande maggioranza dei autori è la Vergine Maria, poi c'è però naturalmente la ricaduta ecclesiologica, può essere anche la Chiesa, di fronte a lei si para per sfidarla, per fronteggiarla, l'enorme drago rosso, cioè va proprio davanti alla donna. Guardate se c'è il testo sacro. Il drago si pose davanti alla donna, è quello che stiamo vivendo, un'Unione Europea senza radici cristiane, massonica, un'Unione Europea che me lo ricordo io qualche anno fa ha mosso dei procedimenti penali nei confronti addirittura di Josef Ratzinger, ben detto secesimo, a proposito del problema dell'AIDS e così via dicendo. Un mondo dove si approvano le leggi contro Dio, l'aborto, il divorzio e le unioni gay, una umanità immersa nel caos come la torre di Babele. Questo è Satana, è Satana l'enorme drago rosso che sfida Maria, capito? Sono i due grandi antagonisti. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. E fine i versetti 5 e 6. Essa partorì un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro e suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. Se notate tra i due antagonisti ancora una volta un enorme, nuovo, improvviso, inaspettato colpo di scena perché il veggente di Patmos, Giovanni, tra i due antagonisti pone l'attenzione, concentra l'attenzione sul bambino che nasce, che è destinato a governare il mondo intero e che però viene rapito verso Dio e verso il suo trono. E quindi restano ancora una volta a fronteggiarsi la donna vestita di sole e il dragone rosso. E il versetto 6 dice la donna invece fuggì nel deserto dove Dio le aveva preparato un rifugio perché vi fosse nutrita. Si conclude qui il nostro testo, i primi sei versetti di questo assoluto straordinario, assolutamente straordinario capitolo di Apocalisse, il capitolo 12, che praticamente non so voi, io lo so a memoria perché è talmente bello che non si può ignorarlo, ma l'ultimo passaggio è quello cronologico che svela in realtà il Sitzileben, come direbbero i tedeschi, cioè il contesto vitale che è quello dell'anticristo perché dice che la donna, di cui non si dà il nome naturalmente, la donna vestita di sole, fugge nel deserto dove Dio le aveva preparato un rifugio perché vi fosse nutrita, attenti qui, per 1260 giorni. E qui naturalmente come ora vedremo si è scatonata assolutamente la, diciamo, l'euforia esegetica per cercare di capire che cosa significasse questo tempo in cui la donna fugge nel deserto, nel rifugio che Dio le prepara per 1260 giorni. Attenzione, 1260 giorni sono la metà di sette anni, sono tre anni e mezzo, tre anni e mezzo sono nel libro del profeta Daniele, come ora vedremo credo al capitolo decimo, adesso lo vedremo però, il tempo dell'abominio della desolazione, quindi il tempo dell'anticristo. Durante il tempo dell'anticristo sembra che Maria non ci sia più, in questo senso anche la Chiesa, che sia il tempo, questi 1260 giorni, del potere totale di Satana. Quindi, figlioli cari, mi raccomando, non perdiamoci d'animo, io sono qui anche per quello, dobbiamo accettare, padre Pio, ne parlavo oggi con i miei ragazzi, Viaggio, Giovanni, padre Pio, io dicevo quasi scorsamente, ma quello era alterato di testa, invidiava i cristiani che avrebbero dovuto vivere questi tempi che stiamo vivendo, cioè siamo, tra virgolette, costretti ad assistere a un dominio assoluto, apparentemente definitivo di Satana, in realtà però è un dominio, diciamo, destinato a finire, perché 1260 indica la metà di sette e quindi Dio gli accorda un tempo, ma alla fine vince, appunto, come vedremo, la donna vesile sole. Bene, adesso andiamo più nello specifico nel testo, cominciamo con questo primo segno, un segno grandioso apparve nel cielo, il termine greco è molto bello, semeion mega, è semplice semplice, però è veramente bello, semeion mega, segno grande, segno grande, e qual è questo segno grande? Lo abbiamo visto, una donna vestita di sole, ecco, il primo segno dunque è quello della donna, una donna, il termine guine ricorre diverse volte in Apocalisse 12, almeno 8 volte, ed è messa immediatamente in relazione con il sole, questa è proprio l'immagine che questa sera vorrei che tutti noi avessimo presente, Maria è ricolma di Dio, perché il sole indica la trascendenza divina, Maria è colei che porta il sole, qui bisognerebbe leggere quello che scrive San Bernardo, quando dice vuoi capire cosa significa che Maria è, che la donna è vestita di sole? Togliti i calzari come ha fatto Mosè e adora i misteri di Dio, bellissima come immagine, per dire che Maria è veramente straordinariamente ricolma di Dio, ecco, e notate, interviene, e questo ci riguarda tutti, nella stagione dell'anticristo, la donna vestita di sole che è Maria ricolma di Dio, e quindi quando io vi dico non vi preoccupate, non temete, la Madonna è con noi come non è mai stata con nessun altro, e perché la Madonna è con noi? Nel tempo dello scatenamento di Satana compare lei, non siamo soli, figli cari, questo è il tempo di Maria, proprio perché è il tempo dell'anticristo, è il tempo di Satana, non dobbiamo avere dubbi che siamo con Maria, la donna vestita di sole, vi sto dicendo che padre Pio invidiava i cristiani che avrebbero dovuto vivere questi 1260 giorni, è vestita di sole, per i beblemene tonelion in greco. Ora il verbo per indicare il rivestimento del sole è per i ballomai, che significa letteralmente mi vesto di, oppure addirittura indosso, quindi non è certo una sfilata di moda, però la Madonna si è scelto il vestito più bello per comparire in Apocalisse 12, miei cari figlioli, la donna vestita di sole, contro ogni riduzionismo che non a caso è portato avanti dalla falsa chiesa bergogliana, dal progressismo cattolico che è quello che si entusiasma ed esulta perché vince Biden in America, perché nell'Unione Europea abbiamo una realtà europea che nega le radici di Cristo, ecco di fronte a tutto questo compare lei, Maria. Lo scontro, Satana deve vedersela con la Madonna, per dirla molto chiaramente, e quante volte io ho detto hanno fatto i conti senza l'oste, ma ecco la Madonna si riveste di sole, il sole più che un vestito però, attenti bene, perché il testo greco lo lascio intendere benissimo, vedo che il tempo trascorre, ma vorrei con voi soffermarmi soprattutto su questo perché è uno dei passaggi più importanti di Apocalisse e della storia della salvezza, Maria non sta indossando una veste, il sole che la ricopre non è una veste, è una, non so come trovare il termine, è una metamorfosi, lei, Maria, è circonfusa, si colloca Maria idealmente, perciò nel campo attenti bene che si contrappone al regno della bestia, cioè noi che anche se saremo in pochi, il piccolo resto, come si dice, gli eletti, coloro che portano il sicillo del dio vivente sulla fronte, che non si faranno mettere il microchip, che forse non faranno il vaccino e perciò non potranno più viaggiare come in passato, verranno meno prerogative, non è che siamo abbandonati a noi stessi e siamo clandestini senza identità, cioè c'è un regno antidivino, questo è un passaggio molto forte che io ho imparato da von Balthasar e che vorrei che mi desse conforto questa sera perché il momento che stiamo vivendo è quello che è sotto gli occhi di tutti, non è che noi siamo lasciati da dio in balia di noi stessi, c'è un regno antidivino che appare molto forte, che appare sempre più determinato a costruire come non è mai accaduto una dittatura mondiale, ma attenzione che c'è la donna vestita di sole, il fatto che sia vestita di sole indica che c'è un regno parimenti che si contrappone al regno dell'anticristo, che si contrappone al regno della bestia, esiste il regno del sole, esiste il regno della luce, esiste il regno di Maria. Se avessi tempo io qui vorrei poter approfondire quello che Monforte dice, ho provato con me il testo a riguardo dello scontro tra Satana e Maria negli ultimi tempi, quando si dice proprio che ella, la Madonna, sarà pronta a combattere contro Satana e sceglierà i suoi eletti appunto per combattere contro il diavolo. vi leggo proprio questo, il potere di Maria, scrive il Monforte, su tutti i demoni risplenderà, e su tutti i demoni non solo quelli spirituali, ma i poteri anticristici che in questo momento stanno pressando per raggiungere l'obiettivo, squalificando gli avversari di fare un new world order, risplenderà in modo particolare negli ultimi tempi, che secondo me sono quelli che stiamo vivendo, quando Satana insidierà il suo calcagno, cioè i suoi poveri schiavi e umili figli che lei susciterà per muovergli guerra. Questi saranno piccoli e poveri secondo il mondo, infimi davanti a tutti come il calcagno, calpestati e maltrattati come il calcagno lo è in confronto alle altre membra del corpo, in cambio saranno ricchi di grazia divina che Maria comunicherà loro in abbondanza, grandi ed elevati in santità davanti a Dio superiori eccetera eccetera. Qui veramente il Bonforte ha visto quello che Apocalisse XII lascia intendere. Quindi questa donna è contrapposta in maniera antagonistica all'enorme drago rosso rivestita del sole, un alone luminoso che porta calore, che porta vita, la ricopre. Questa donna poi, dice il testo, ha la luna sotto i suoi piedi. Che significa questa luna sotto i piedi? Allora anche qui sono state date tantissime spiegazioni. Dunque la luna sotto i piedi indica pieno dominio e padronanza da parte della donna. Noi sappiamo che la luna, come si legge per esempio nel Siracide al capitolo 43, indica le feste, decresce, poi cresce di nuovo, da essa un mese prende nome mirabilmente crescendo secondo le fasi, i fasi lunari, a cui sono collegate assai significativamente le donne con il ciclo mestruale. Ecco, invece questa donna è una donna che la luna la tiene sotto i piedi per indicare che ella domina il corso del tempo. Bellissima questa immagine fiolicari. La donna che si erge sulla luna, vi ricordo che a Guadalupe la Madonna appare con la luna sotto i suoi piedi, è signora del volgere dei mesi e degli anni degli eventi della storia. Il passare del tempo non logorerà. Questo sta dicendo il regente di Patmos, la supremazia di questa donna, questa donna rimane vincitrice, domina nonostante il passare del tempo. Però c'è un'altra interpretazione molto bella che non posso, diciamo, trascurare della donna con la luna sotto i suoi piedi, perché secondo le concezioni cosmologiche antiche, la luna segnava un confine, un confine tra le sfere inferiori del cielo e le sfere superiori. Le sfere superiori, aiter in greco o anche aiter in latino, erano le sfere abitate, quelle sfere superiori alla luna, quindi qui c'è la luna, ecco, le sfere superiori alla luna erano quelle abitate dagli dei, dalle divinità. Mentre le sfere sotto la luna, le sfere inferiori alla luna, in latino aer, er se volete, è contrassegnato dalla transitorietà ed è abitata non dagli dèi, ma dagli spiriti diabolici. Per esempio Cicerone, il grande Cicerone, scrive, sotto la luna non c'è nulla che non sia mortale e cangiante, sopra la luna tutto è eterno. Allora il fatto che Maria, la donna vestita di sole, si erga con i suoi piedi, dice Lefrois, su questa luna, il fatto che il mondo inferiore alla luna sia quello dei demoni significa che Dio accorda a questa donna che è già piena del sole e della luce divina una supremazia, una potere, una signoria sulle sfere demoniache. Io trovo che questa spiegazione è assolutamente meravigliosa, splendida, da gustare. Vorrei ripeterla perché vi rimanga impressa. Dunque abbiamo visto perché è vestita di sole, adesso stiamo vedendo perché porta la luna sotto i suoi piedi. Secondo l'antichità, la cosmologia antica, la luna aveva un mondo superiore, l'etere, che era quello abitato dagli dèi, e un mondo inferiore alla luna che era quello abitato dai demoni. Il fatto che la Madonna, Maria, la donna vestita di sole, tenga la luna sotto i suoi piedi, indica che ella governa il mondo demoniaco, ha potere come nessun altro sul mondo demoniaco. Questa donna porta in capo 12 stelle. Ecco, le 12 stelle, una corona di 12 stelle, a dire il vero, c'è proprio il termine greco, stefanos, asteron dodeca, stefanos, asteron dodeca, corona di 12 stelle, non è un elemento coreografico come dice appunto Ugo Magni, al contrario, le 12 stelle indicano il fatto che come questa donna, quindi vedete che il leggente di Patton sta cercando di dire attenzione, questa donna è decisiva. Si sta scatenando, perché poi vedremo il capitolo 14 con la bestia nera, l'anticristo, il microchip, quelle cose lì, ma proprio di fronte allo scatenamento del potere e del male c'è questa donna che è decisiva, questa donna che è decisiva, ma noi forse, fiolicari, non stiamo vivendo di questo. Se non ci fosse la Madonna noi saremmo spacciati, capito? Saremmo finiti. Lei ha un dominio, fiolicari, lei ha un dominio, la luna sotto i suoi piedi, ha un dominio sulle regioni diaboliche, le governa e le sconfigge. Questo trovo che sia assolutamente meraviglioso come messaggio lanciato dall'Apocalisse, ma c'ha una corona di 12 stelle, le 12 stelle richiamano le 12 tribù di Israele, va bene? Richiamano i 12 apostoli, richiamano tutti gli eletti. Dunque questa donna con le 12 stelle, che poi è la bandiera dell'Unione Europea, sapete tutta la storia straordinariamente ironica e simpatica del simbolo che è assolutamente mariano, questa donna ha dominio dinanzi a Dio, dinanzi al mondo diabolico e dinanzi agli eletti. Ma non trovate che sia qualcosa di marianamente sconvolgente? Di fronte, in barba, no? In barba al minimalismo mariano che Bergoglio bestemmiando sta portando avanti. Ormai da sette anni Maria si è ridotta a essere la donna della porta accanto. Apocalisse 12 è un antidoto straordinario. Donna vestita di sole, nessuna creatura è ammantata di Dio, della trascendenza divina come lei. Con la luna sotto i suoi piedi comanda e governa le regioni del mondo diabolico e demoniaco. È una corona di 12 stelle. Ella è la domina, la signora, con lei che governa tutti gli eletti di Dio. Ma a un certo punto qui c'è il colpo di scena, come vi dicevo, questa donna circonfusa e immersa nella luce del sole, eretta sulla luna e coronata di 12 stelle, che giganteggia sulle forze del male e su tutti gli eletti, a un certo punto improvvisamente viene raffigurata in quello che è uno dei, diciamo, delle prerogative fondamentali della donna, perché viene chiamata donna, ed è quella del parto. Era incinta, versetto 2, e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Quindi era incinta. Questa donna che governa il mondo demoniaco che lo domina e che poi è venerata da tutti gli eletti era incinta e gridava per le doglie del parto. Dunque questa donna è una partoriente e il suo parto è prossimo, perché già grida, il verbo crasei, crasoma indica proprio un urlare forte nella letteratura evangelica, è addirittura odinusa, cioè sopraffatta dalle doglie del parto. O è un parto talmente doloroso, non so quante donne hanno avuto nella loro esperienza, quante mamme hanno avuto nella loro vita esperienza di un parto doloroso. Io per esempio col mio gemello sono figlio di un parto doloroso, travagliato. Ecco, in questo caso questa donna, che è Maria, è addirittura sopraffatta dalle doglie e persino dai tormenti, basanizzusa, e odinusa e basanizzusa sono due participi che indicano l'essere sopraffatta e tormentata dal parto. Ora, naturalmente in un primo acchito di tipo, diciamo così, teologico, la questione che immediatamente si pone è che la donna non ha forse avuto un parto in dolore? Non è stato un parto virginale quello di Maria? Allora in che senso qui lei sta partorendo nel dolore? Ecco, gli studiosi, Grelo, per fare solo qualche nome, lo stesso Deliubac, il Congar, Fonbalta, San Ratzinger, insomma, sono unanimi nel dire che non ci si riferisce al parto di Betlemme, ma al parto del Calvario. Guardate che meraviglia. Cioè, questa donna sta partorendo non tanto il bambino Gesù a Betlemme nella notte magica del Natale, ma il Messia sulla croce che salve, redime l'umanità intera. L'umanità intera. E quindi il testo è molto chiaro nel dire che questo parto è un parto doloroso, è la corredentrice. C'è tutta la mariologia, ragione Fonbaltasar. Apocalisse 12 è una sintesi estremamente sintetica, ma mirabilmente profonda, del culto mariano cattolico e non solo cattolico, anche orientale. Cioè, Maria partorisce nel dolore, perché è la corredentrice. Lei ai piedi della croce partecipa in maniera del tutto esclusiva alla salvezza. Era incinta e gridava per le dolie il travaglio del parto. Mi ho detto i due termini, i due verbi che sono al participio, appunto, essere sopraffatta. E quindi il parto del Calvario. Maria, che a Betlemme partorisce nella gioia, nell'estasi, nella letizia, sul Calvario partorisce nel dolore. E a un certo punto, e concludiamo per oggi, accade qualcosa di molto particolare. Si allarga, diciamo, il campo visivo e mentre la donna sta per partorire compare l'altro segno. Apparve allora un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso con sette teste e dieci corna e sulle teste sette diademi. I studiosi sono tutti molto d'accordo nel dire che il drago che viene presentato ha dimensioni iconografiche assolutamente mostruose, mostruose. Dopo una visione inizialmente luminosa, si passa poi al dramma del parto per poi approdare, in questo linguaggio tipico di Apocalisse, il registro dello scontro, della battaglia, al dragone, l'antagonista. Questo dragone ha delle caratteristiche. Ha sette teste. Che cosa sono queste sette teste? Beh, lapidariamente Lorenz, non solo Lorenz, ma anche Biguzzi dicono che si tratta di sette vite. Voi sapete che si dice sempre che il gatto ha sette vite per indicare che sfugge facilmente alle insidie eccetera. Ecco, è un potere, se volete politico, economico, lo abbiamo visto nelle catechesi precedenti che trovate su Radio Domina per avere meglio chiaro come stanno le cose, un potere che sfugge di continuo alla autodistruzione finché Dio non lo permette. E quindi è un mostro che ha sette teste. Significa, per esempio, quello che stiamo vivendo ai nostri giorni. Per esempio, se fosse vero, dico se fosse vero, che Trump afferma che ha le prove, gli indizi, che vuole approdare alla Corte Suprema per dimostrare che il voto è stato pilotato e invece viene trattato come se fosse un millantatore, ecco, voi capite cosa sono le sette teste. Il drago ha anche dieci corna e sette diademi. Le dieci corna sono quelle che richiamano Daniele 7,7 e indicano potenza, indicano potenza permessa da Dio. Invece i diademi sono un ornamento regale, come sapete. Il drago dunque unisce alla vitalità delle sue teste, per cui ha una vitalità immensa, la potenza politica, perché ha i diademi. Sette diademi, sette è un numero perfetto, indica il nuovo ordine mondiale, cioè il mondo intero, le masse globali, il pianeta, si prostrerà dinanzi alla bestia. E questa bestia, però adesso per oggi devo concludere, come vedremo la prossima volta, ho preso un po' di tempo in più con la introduzione perché dovevamo riagganciarci, questa bestia non si limita a mostrare il suo potere, ma fronteggia la donna, è insolente, è caparbio, è superbo. Siamo veramente in presenza di uno scontro proprio frontale tra la donna vestita di sole che domina sul potere demoniaco, ma c'è questa bestia rossa, questo drago rosso con dieci corna, sette teste e sette diademi, quindi un'immagine assolutamente mostruosa che fronteggia la donna e addirittura gli si pone dinanzi, lo vedremo la prossima volta, il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, il tentativo è proprio quello di distruggere l'opera di Dio, come vedremo la prossima volta. Ci riuscirà? No, naturalmente no, la donna sarà condotta nel deserto, ci devono essere questi 1260 giorni che già nel libro del profeta Daniele indicano, sono tre anni e mezzo, indicano il tempo dell'anticristo, in Daniele indicano il tempo della desolazione, ma che invece in Apocalisse indicano il tempo del dominio della bestia che metterà il marchio e quello è un tempo nel quale sembrerà che la chiesa non esista più, la donna sembrerebbe poi a un certo punto non esserci più, dobbiamo prepararci a questo tempo di deserto, figli cari, sapendo però che sono metà di sette per indicare che il tempo in cui il diavolo si scatena è un tempo dimezzato che prima o poi avrà termine. Bene, miei cari, per oggi può bastare così, spero di non avervi appesantito, forse sì, me ne scuso con voi se è adesso è possibile intervenire telefonicamente, se trovo il cellulare in mezzo a tutti i miei immensi, eccolo qui, il cellulare, è possibile intervenire, spererei sulla catechesi, al numero telefonico in sovrimpressione, ve lo ricordo, 349 410 1638, potete intervenire su questo, su altre tematiche affini. Ecco la prima telefonata, pronto? Pronto, don Alessandro? Sì? Si è lodato Gesù Cristo? Sempre si è lodato. Parlo a Susanna da Buenos Aires. Oh, che meraviglio, Susanna, che meraviglia, Susanna Menendez, come stai? Benissimo, benissimo. Che bello. vorrei raccontarti che Carmine sta lavorando, ha avuto un problema con la sua figlia che è stato ammalata, dunque le cose si sono un po' ritardate. Ma non c'è fretta, non c'è fretta, Susanna, può lavorare con molta tranquillità, del resto dovrà arrivare il tempo in cui io vorrei poi venire lì a presenziare, a pubblicizzare il libro tradotto in spagnolo, certo? Magari, magari, sì, 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 io lo vorrei sicuramente. Un'altra cosa, questa mattina, lei ha parlato di Bergoglio, la faccia mamma, e io mi ricordo, voglio raccontare un piccolo, un piccolo anettota, che l'anno scorso, quando questo è successo... Hola? Sì, 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 ascolto Susanna. Ah, d'accordo. Sono entrato in una chiesa e c'era un preto che era seduto aspettando che le persone le facessero delle domande. Allora io gli ho detto, padre, chi cosa pensa di questo che ha fatto Bergoglio, questa aressia di portare così, piazzare la pacciamama in Vaticano. Allora, ma guardate, mi ha detto, ma non è niente, sono così senza importanza. Ma, detto così, sono figurine. Io mi sono andata scandalizzata. Certo, certo. Perché veramente, chi un preto possa rispondere a una cosa dal genere, sono restata veramente sconvolta. Certo, certo. Ma non volevo raccontarlo perché questo esiste. esiste la gente che pensa che sono figurine. Ma che roba. Che vergogna, che vergogna. Vergogna, veramente. Beh, io la saluto. Grazie, Susanna. È sempre una grande gioia sentirti telefonicamente. Salutami Carmen, dille, perché lo vorrei spiegare qui ai nostri ascoltatori. Oggi siamo 1200, Pencia. Vorrei dire che stiamo parlando della traduzione spagnolo del libro Pietro Dove Sei, che Susanna e Carmene si stanno curando di fare. Ma non c'è fretta, va bene, Susanna? Quindi via Carmene che proceda senza nessun problema, con calma, ecco. Bene, tanta benedizione, Susanna, a Buenos Aires. A presto. A presto. Uniti in preghiera. Ciao, Susanna. Avanti con Maria. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Che bello, quando chiamano da Buenos Aires se il mio cuore, come forse si vede, arrivo a commuovermi, perché io ho avuto un'esperienza straordinaria lì a Buenos Aires, la patria di Bergoglio. Pronto? Pronto, Domino Tella? Sia lodato Gesù Cristo. Sia lodato sempre, sia lodato. Domino Tella, noi ci siamo visti quest'estate alla piccola Nazareth. Sì. Io sono giunti. Le volevo chiedere una cosa. Quando dice io sono venuto Gesù a mettere spada, non pace, cosa intende? Sì, sì, sì. Rispondo per telefono, va bene? Domino Tella, un abbraccio grande. Grazie, ricambio con affetto, perseveriamo nella preghiera. È una delle espressioni forti di Gesù, una di quelle che non piacciono ovviamente oggi all'irenismo, allo pseudo-irenismo della falsa chiesa. Gesù vuole indicare il fatto che la sua parola è niente affatto inefficace o ingenua o innocua, ma la sua parola colpisce, come dirà poi la lettera agli ebrei, la parola di Dio è come una spada a doppio taglio. Ecco, questo indica, cioè la parola di Dio non è inoffensiva e non ci sarà nessuna ideologia nella storia dell'umanità che potrà in qualche modo soffocare il carattere offensivo, nel senso proprio letterale del termine che la parola di Dio. In questo senso Gesù dice non sono venuto a portare la pace ma una spada e questo indica anche il carattere divisorio, divisivo, se volete, del messaggio di Cristo. Gesù dice d'ora innanzi il padre contro il figlio e la madre contro la figlia, ecco, per indicare proprio che la sua parola è quella che ha il primato anche sui legami umani. Pronto? Pronto? Mi senti? Ecco, adesso sì, chi parla? Sono Ilenia da Udine. Ecco, sia lodato Gesù Cristo, Ilenia. Sempre sia lodato e io è la prima volta che telefono, sono felice e ti voglio salutare, ti seguo sempre. Grazie. E oggi ho avuto delle bellissime esperienze, per modo di dire, tra parentesi. Allora, durante la messa del mattino, durante l'omelia, il sacerdote ha detto che il purgatorio è un concetto medievale. Sono solo canzonette? Sì, sì, ma non è finita qua, forse è finita qua, saremmo bene. E io quando ho fatto la comunione, gli ho detto il corpo di Cristo, Amen, e il purgatorio esiste. Sì, no, perché io devo sopportare, vado per testimoniare, perché non si può andare, se no uno è meglio che non ci va. E poi ho contato un altro sacerdote, a cui ho riferito questo, e lui mi ha detto, eh ma non è un dogma. Concilio di Lione, 1274. Sì. Dopo, alla sera, ho telefonato al monastero di Castelmonte. Sì, sì, sì. E quello forse dove andava a passare le ferie, se non ricordo male, Vittorio Messori, è quello? Eh, penso di sì. E credo che sia quello. Ho telefonato e gli ho detto, ma guardi che io stamattina mi sono sentita dire questa cosa, che il purgatorio non esiste, sì, che è un concetto che poi il fuoco, per l'amor di Dio, e questo qui fa. Sì, sì, ma il concetto adesso è molto cambiato. Il purgatorio è una, proprio, si sta lì un secondo. Come sono divertenti questi preti, poveracci. Nel Vangelo c'è scritto che non uscirete di Dio, fino a che non avete pagato fino all'ultimo centesimo. Eh, sì, eh, però sì. Eh, allora? Eh, ma che è cambiato un po' il concetto. In che senso è cambiato un po' il concetto? Eh, ma non c'era il fuoco. E poi ho detto, beh, no, il fuoco del camminetto non c'era, ma c'è il fuoco spirituale, no? Certo, certo. E quindi, in che senso è cambiato? No, ma forse sì, non è cambiato. Ma, insomma, vedi, Fiola cari, lei mi hai detto, vero? Intanto ti benedico, intervengo telefonicamente, Dio ti benedica sempre. Ecco, innanzitutto vorrei trarre spunto da questo per dire, con tutto il rispetto, ma non ci andate a messa, non ci andate in queste messe, sono eretici, sono eretici, vi fate il fegato marcio, chi ve lo fa fare? Se io fossi laico come voi, me ne starei a casa e seguirei la messa su Radio Domina. Però, naturalmente, rispetto di tutti. Però è interessante il legame tra quello che ha detto Susana a Buenos Aires riguardo di quel sacerdote, a cui racconta di paciamama e dice che sono cartoni animati, e quello che te dici da Udine a riguardo del purgatorio. Questi preti, siccome sono rimasti con bergoglio, hanno ciò che meritano, sono ormai appartenenti al diavolo. State in guardia, state in guardia, non contaminatevi con la falsa chiesa bergogliana. A parte il fatto che sono anche ignoranti e presuntuosi, perché il Medioevo in realtà è una delle stagioni più luminose della storia dell'umanità. Pronto? Sì, sì, dimmi pure Claudio. Allora, io ho una questione, una domanda, perché non si parla da tanto verso il limo. Allora, i padri della chiesa dicono che il luogo, che comunque è una condizione che esiste, e poi Ratzinger mi pare che ha cambiato, insomma, si è un po' ripartata. Insomma, è un concetto che mi ha... Sì, sì, ho capito. Intervengo telefonicamente, va bene? Dio ti benedica Claudio, coraggio, avanti con Maria. Allora, bisogna dire la verità su questo, eh? Bisogna dire la verità. E purtroppo il catechismo della chiesa cattolica del 92 ha fatto un paio di concessioni alla teologia modernista. Ne cito solo due. Quella del limbo, che improvvisamente scompare, per volere, di Ratzinger, dell'allora cardinal Ratzinger, mentre il catechismo di San Pio X ne parla. È tutta una questione da riprendere assolutamente, ma naturalmente stasera non ho il tempo di approfondirla. Ti do atto, però, che è un problema serio, un problema grosso, l'idea di avere eliminato come questione teologica quella del limbo, quando in realtà nel corso dei secoli è stata una, non dico un dogma perché non lo è, ma una credenza, anche dal punto di vista teologico, patristico, tardopatristico, medievale, tridentino, che improvvisamente è stato eliminato. L'altra concessione riguarda l'uso della cremazione, assolutamente, da non incoraggiare, da bocciare clamorosamente. La cremazione per un cristiano, io lo metterò per iscritto per quel che mi riguardo, quando verrà il momento, io non voglio essere affatto cremato e un affronto a Dio, perché il corpo risorgerà dalla terra, e se deve consumarsi e diventare polvere, è Dio che lo stabilisce. Vediamo che invece i corpi di molti santi rimangono intatti, e non solo di grandi santi. Quante persone ho sentito che quando si tratta di fare l'espurgo, o lo spurgo come si chiama in termini un po' più dei morti, anche da tanti anni, e poi aprono le bar e ritrovano i corpi incorrotti. Magari poi si viene a scoprire che sono persone che hanno vissuto santamente durante la vita. Quindi anche questo della cremazione, cioè di far passare dal forno il corpo di un cadavere, il defunto, perché diventi cenere e poi venga messo il cofanetto. Questa è una concessione, a mio avviso, io non sono un tradizionalista nel senso tecnico del termine, però la questione del limbo, come anche quella della cremazione, sono purtroppo, a mio avviso, lo dico con enorme rispetto, però anche con franchezza, delle concessioni che il Catechismo Ultimo ha fatto alla teologia modernista, mentre su questo il Catechismo di San Pio X resta assolutamente insuperabile. Vedo che arrivano altre telefonate, però per questa sera può bastare così, del resto è da stamattina che stiamo insieme, adesso una pausa è più che dovuta. Vi ringrazio, miei cari figlioli, guardiamo a Maria, la donna vestita di sole, circonfusa di luce, lei porta il regno di Dio contro l'anti-regno diabolico, ed è lei, Maria, che ci salverà e ci otterrà la vittoria. Benedicate vos, Onnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Santus, Amen. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria, Santa Notte a tutti voi.